Perché i candidati a Vittorio Feltri? A dir poco per la stima che abbiamo, lo conosciamo, un uomo che si è fatto valere sul campo, le sue battaglie sono sempre state le nostre battaglie, quindi penso che sia anche la volontà di riconoscere una grande carriera da giornalista e un grande uomo che è sempre stato vicino ai bisogni della nostra gente. E perché non vi piace Mattarella? Ma direi che rappresenta per noi quello che di peggio c'è del centralismo, visto che è considerato che la Costituzione Repubblicana è stata scritta dai padri costituenti che sono degli autentici federalisti. Penso ai Naudi che diceva nel presentare la Costituzione nel 1948 ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta, beh la gestione è stata centralista, ancora oggi il Veneto viene vissuto come la colonia di Roma, viene vissuto come la periferia dell'impero, invece siamo quelli che vogliono l'autonomia, vogliono una Costituzione che sia interpretata alla tedesca perché i presupposti ci sono, ma la verità è che Roma senza i soldi dei Veneti e dei Lombardi non vive più, allora se serve un Presidente per mantenere Roma diciamo di no. Grazie.